Buonasera Londra, ogni anno faccio il discorso di fine anno, dove faccio il sunto di quello che abbiamo fatto e che vorremmo fare l'anno prossimo aggiungendoci qualche riflessione personale. Quest'anno invece ho bisogno di te. L'anno prossimo faremo il salto nell'iperspazio, triplicheremo la collana dei nostri libri, apriremo un nuovo sito e il project Invictus subirà importanti modificazioni, ma soprattutto non farò più i video nella mia cucina. Ormai siamo troppo importanti, questa location familiare non va più bene. No, non è vero, cambio soltanto casa e li girerò nella cucina nuova. Ma per tornare a noi, quest'anno vorrei fare un discorso di fine anno assieme a te, assieme a tutte le persone che credono nel project Invictus, che come noi sono appassionate e amano la ricerca della verità, anche se forse non si troverà mai. Quindi se anche tu ti alleni con la testa, con il cuore e con il fegato, aspetto il tuo contributo per il discorso di fine anno. Basta che mi invia la mail che vedi qua sotto, un breve filmato di massimo 10-12 secondi, dove fai un esercizio, una ripetizione, una skill, oppure dici semplicemente una poesia o una frase, ma concludi dicendo Io sono Invictus! Ti faccio vedere un esempio del mio pezzettino che ci sarà nel discorso di fine anno. Non importa quanto stretto sia il passaggio, quanto piena di castighi la vita, io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima, io sono Invictus. Allora aspettiamo il tuo breve filmato per metterlo assieme a quello di tutti noi, perché solo chi conosce sceglie, altrimenti crede di scegliere.